ciao bentornato ho difeso il mio amore dei nomadi in italia penso sia una cover il tasto originale è night in white satin allora le pennate prima di farti girare puoi fare con un ottavo e quattro trentaduesimi è un po difficile ma può rendere altrimenti non riesco a trovarti un'altra pennata e queste parole sono scritte da chi non ha visto più il sole io le ho trovate a un campo di fiori sopra una pietra c'era scritto così penso che vada bene usando una pennata da un ottavo e quattro trentaduesimi giù giù su giù su giù ti lascio gli accordi nella di la scalia sotto il video e nella playlist della tecnica trovi questa pennata di un ottavo e quattro trentaduesimi un ottavo in battere sono uno in battere e quattro in levare canzone non è lenta è un allegretto dovrebbe essere 60 impulsi al minuto dovrebbe andare bene ciao grazie per la visione ciao ciao